Intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano su richiesta della centrale operativa del 118 per il recupero di un escursionista infortunatosi lungo la pista alta montana dell'Etna nel versante sud del vulcano. La donna, mentre insieme al marito percorreva il sentiero per un'escursione notturna, si è infortunata ad un ginocchio a causa di una caduta nella zona del rifugio San Giovanni-Gualberto, a pochi chilometri dall'ingresso sud della pista alto montana, lo sterrato ad anello che congiunge i due versanti settentrionali e orientale dell'Etna. Le squadre di soccorso, con l'ausilio dei mezzi fuoristrada, hanno rapidamente raggiunto l'escursionista insieme ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Valutate le sue condizioni, l'infortunata è stata stabilizzata dai sanitari presenti sul posto e condotta in ambulanza per le necessarie procedure di ospedalizzazione.